Ovunque nel mondo, Royal Canin sviluppa con passione il territorio della nutrizione e salute al servizio del benessere dei cani e dei gatti. Royal Canin, con i suoi prodotti di qualità ineguagliata, è un'azienda unica e veramente differente. Siamo pronti per il sesto raggruppamento e ho io trattandosi di signora dell'onore di presentare la giudice del raggruppamento dei Segugi e Cani per Pista di Sangue, arriva dal Brasile e si chiama Angio Sampaio. Ed eccoci pronti per presentare i Segugi, a cominciare da Rhodesian Ridgeback. Passando poi alla Dalmata. Annoferischer Bayerischer Gebirgschweissund Annoferischer Schweissund Alpenlandische Dachsbrache Ptibassé Grifon Vanden Bigal Grand Bassé Grifon Vanden Bassertown Bassertown Va quindi ad analizzare, insieme al nostro giudice internazionale brasiliano, coloro che potranno accedere all'ulteriore scrematura per poi andare a salire sui tre gradini del podio. Ricordiamo che a seguire ci occuperemo del settimo raggruppamento quello dei cani da ferma e del decimo raggruppamento quello dei livrieri prima di salutarvi e darvi l'appuntamento con la giornata di domani, quindi la giornata di domenica che sarà sicuramente una giornata molto molto piena e molto interessante per questa 48esima esposizione internazionale canina di Milano. Invito nel frattempo i segugi, scusate, i cani da ferma nel pre-ring e a seguire i livrieri. Attention please. Ghandog in pre-ring and then Sighthound in pre-ring. Grazie. 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 Tra i sei finalisti il Rhodesian Ridgeback dallo Zimbabwe. Andiamo poi in Croazia con il Dalmata. Sicuramente molto nel cuore dei bambini, no? Visto l'omonimo film e cartone della Walt Disney. Un attimo, un attimo che mi si sta spegnendo il pubblico di Milano 2013. Forza con un bel applauso! Forza, forza, qui il parterre dei giudici, un bel applauso anche da parte dei giudici e degli ospiti del nostro sponsor Royal Canin. Attenzione questa volta per un altro esemplare molto molto interessante. Bayerischer Gebirg Schweizund è un segugio da pista di sangue, cane da pista di sangue della regione bavarese, da montagna, dice il nome stesso, interviene quando il cervide in genere è ferito. Quali sono le esigenze e le caratteristiche? Andiamo a raccontare anche perché ricordiamo se magari qualcuno lo vuole portare a casa, no? La taglia ne fa un cane di media taglia, la caratteristica struttura allungata, sono cani dotati di un carattere piuttosto deciso. Vedete come abbia l'intenzione sempre di tenere il tartufo a terra, proprio perché è caratteristico di tutto questo raggruppamento quello di cercare di recuperare le particelle che ci sono sul suolo, ovvero sfruttano quello che è il mega olfatto. Quello che vediamo sfilare ora è un bassetto, abbiamo i bassottimi che vedremo domani ma abbiamo anche i bassetti, sono di origine francesi, questo arriva dalla Vandea, ha un carattere leggermente più morbido rispetto ad altri segugi, comunque sono tutti piuttosto dei peperini. Ecco, una tendenza che generalmente viene attribuita a queste razze è quella di scappare. Lo stile di caccia per cui sono stati selezionati prevede che questi soggetti col naso a terra spazzino anche per molte centinaia di metri. Il problema è che non sempre la vita nelle grandi città o comunque in ambiente urbano o in urbato permette al cane di poter vagare così liberamente, per cui molto spesso si perdono. Per cui è importantissimo a questi cani insegnare il richiamo fin da piccoli. Facendo un parallelo come abbiamo fatto dall'inizio di questa giornata con lo sport, si può dire che credo che siano come gli sportivi, no? Abbiano bisogno di un stile di allenamento e anche di una nutrizione adeguata. Infatti, soprattutto per i segugi che svolgono la caccia alla selvaggina da pelo, quindi per tutta una giornata lavorativa, magari anche con delle temperature rigide, l'alimentazione deve affornire un apporto corretto dei vari nutrienti e dei vari microelementi. E questo fa sì che i soggetti possano esprimere al meglio quelle che sono le informazioni contenute nel DNA che l'allevatore ha deciso di far passare da una generazione all'altra. Mi fai sempre fare la parte del maestrino della penna rossa, insomma. Ah sì, sì, assolutamente sì. Approfiterò fino alla fine delle tue conoscenze, Stefano. Ci avviciniamo alla nostra giudice. Anche in questo caso andremo dalla terza posizione a salire. Anche in questo caso andremo dalla terza posizione a salire. L'applauso quindi per la terza posizione, mentre ci avviciniamo a quella che sarà la posizione superiore, un gradino più in alto. Quindi andremo sul secondo gradino del podio. Number two. Audition Ridgeback. E sul gradino più alto del podio troviamo invece... Grand Basset Van De An. Ringraziamo quindi tutti i soggetti, facciamo un bel applauso al podio, abbiamo salutato e ringraziato la nostra giudice brasiliana che in questo momento sta prestando a consegnare quelli che saranno i trofei di questa giornata. Un ringraziamento ancora una volta a Royal Canen e al gruppo cinofana milanese. Gradino più alto del podio per una razza francese bassetta nella versione grande. Avevamo tra i finalisti il grande e il piccolo, Grand Basset Griffon Van De An. Seguito da un cane per la caccia al leone, Rudijan Ridgeback, caratterizzato da una cresta di pelo che cresce in senso cranio-caudale, caudo-craniale al contrario. E poi un Bayerischer Gebirg Scheissund sul terzo gradino del podio, una razza piuttosto insolita per un podio, scelta dalla nostra giudice internazionale.